In occasione della futura festa del 4 novembre, la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, l'amministrazione di Casarza Ligure ha pensato di fare una giornata dedicata ai nostri caduti con l'alza bandiere del gruppo Alpini di Casarza Ligure e il coinvolgimento di una classe, di almeno una classe del nostro istituto comprensivo di Casarza Ligure che depositerà un mazzo di fiore o una corona presso i nostri caduti che sono la lapide dei nostri caduti che è situata nella sede del comune di Piazza Mazzini. Dall'1 al 4, proprio in occasione di questa festa, ci sarà una mostra sui copricapi militari e documenti vari che si svolgerà presso il Cubo, che è una struttura pubblica dell'amministrazione, gestita dal corpo bandistico di Casarza Ligure. Chi si occuperà di questa mostra è il nostro storico locale Angelo Perrone, al quale passo la parola più che volentieri perché vi spiegherà meglio come si svolgerà questa mostra. Sempre durante questa giornata i bambini poi verranno accompagnati con tutte le persone che saranno presenti durante la manifestazione, proprio all'inaugurazione di questa mostra. Nella mostra si potranno vedere quasi tutta la serie dei corpi attuali delle forze armate, riconoscibili dal basco e dal fregio che portano. Poi ci saranno alcuni manichini, uno dell'esercito, uno dei carabinieri in alto uniforme e uno della marina. Poi ci saranno anche vari documenti relativi a persone di Casarza che hanno contribuito alla lotta bellica vissuta in questo paese. Poi si potrà anche vedere una branda militare chiamata Branda del Capitano che gli ufficiali si facevano portare in trincea dove loro chiaramente dormivano sulla branda e la truppa quando riusciva a dormire dormiva accovacciata a terra. La mostra si svolgerà dall'1 novembre al 4 novembre con gli orari 10-12 al mattino e 15-19 nel pomeriggio, tutti e quattro i giorni.